l'obiettivo era lei si l'obiettivo era lei si l'obiettivo era lei l'obiettivo era lei la garbatella progetto era che il popolo dalla brace cascasse drento la padella già girava prima portoghesi poi arrivò pure anni fa il giovane protesi sto movimento sta nell'arte del mattone questa è la mia unica conclusione perciò siccome importante è guardare osservare riflettere incontro luce mi dissi parla nuovo carlotta fammi capire che fecero qua quei due e ricorduce e siccome l'obiettivo inquadra e poi incastra arrivò per miracolo quasi la per fotografo castra è magia la fotografia è magia la fotografia è magia la fotografia è magia la fotografia c'è il chiaro e lo scuro io mi diverto a parlare con il muro non mi capisce mi risponde e io me lo curo l'obiettivo su garbatella così muore più duro tutti pensano a venire qua già e devi non mangiare così siccome questa è l'unica realtà io continuo a dar da pene alla fontana del carabinieri quella dipinta dall'amico mio pittore che mi è rimasto drenuto al cuore l'obiettivo era lei la garbatella si sono sgrugnati ammazza si sono macciuppati un po' ci sono venuti un po' ci vanno mannati l'obiettivo era lei la garbatella si è solo questione di tempo comunque di tempo ritrovato e non perduto perché san giovanella non micca e non gannella quando l'obiettivo si chiama Roma garbatella buon 2014 a tutti gli amici pazzarelli gioielli dei garbatelli